brava brava, sono tanto brava brava signora Gardaci, signora Gardaci Enrico, sarai in gamba e non fare voci ciao Enrico ciao Bianca la mamma mi ha detto che ahahahahah ahahah scusami la mamma mi ha detto ti giuro sono rimasta trasecolata e io invece dopo aver trasecolato sono passato nella fase della pazienza ti capisco, è tutto così assurdo senti mare merito io ero il mio ultime sogge ecco sei e io sono la suocera di mio marito ecco marito comunque è che so io che sei mi sento molto male mi sento molto male almeno fatemi la soppresia non viene niente a nessuno nessuno deve stare nemmeno che mai mia moglie stai tranquillo farò finta di non conoscerti ah avete già fatto conoscenza? che copro ti partirei ti senti ti senti ti senti ancora non puoi la storia ti senti è questione di un minuto ti prego di là forza ah lo sapete una cosa? a me vengono al tuo sogge a sto Giovanni ce l'hai qua su un colore ma le persone che vengono è contente questo è vero? ti sei impressionato Giuseppe? ma no ma no perchè gliel'ho fatto scusare? perchè prima mi piaceva e ora? e ora non mi piace più con quello con Giovanni avrà vita difficile quello è un uomo adulto autoritario pieno di distanzioni e un po' puoi sciarbalare se ne sono accorta no? non ti preoccupare ho giusto io ti faccio avere il tuo amore quindi che facciamo? organizziamo tutta questa cosa e organizziamo forza forza e allora che succede? vengono qua dimmi che cosa c'è? che mi vuole? c'hai qualche piano? si si ho un piano bravo e fai sei giù qui sposami ma magari mi passerei anche bravo 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 sono tanto bravo bravo bravo